La parola che il Signore oggi ci rivolge affronta tre temi, la magia, la giustizia e la pazienza. Certamente vedere Mosè sul monte con le mani alzate mentre Gesù è combatteva e mentre Mosè teneva le mani alzate e Gesù è vinceva, se le abbassava andava peggio o perdeva, si pensa subito e immediatamente alla magia e domandarci un po' che effetto ha la preghiera. Sicuramente quello di Mosè non è un gesto magico perché non è la vittoria di Gesù è riportata immediatamente dal gesto di Mosè, ma il valore e l'intelligenza dell'attività di guerriero, di Gesù è che ottiene la vittoria. Ovviamente nell'intelligenza, nella capacità e nell'impegno di Gesù è c'era la presenza di Dio. Dio non fa le cose senza l'uomo, anche se da parte nostra vuole una minima partecipazione, ma la vuole sempre. Dio non è un mago, Dio vuole la nostra collaborazione. La seconda, Gesù parla della giustizia, fare giustizia. Cosa vuol dire fare giustizia? Gesù capisce l'uomo, non siamo come noi in cui quando facciamo del male siamo cattivi. Nell'uomo c'è il bene e c'è il male. La presenza del serpente nel paradiso terrestre è lì per dirci questo, che il male si insinua sempre accanto all'uomo e se il peccato lo fece l'uomo, però c'era il male presente, il demonio che collaborava. Dio che cosa fa? Dio fa giustizia. Cioè Dio sa discernere dentro di noi che cosa c'è di bene in noi e c'è tanto e che cosa c'è del male in noi, che non è nostro, è del demonio. Ecco il Signore farà la giustizia in questo senso, vede chiaro di come stanno le cose. La terza è la pazienza. Quante volte anche noi abbiamo pregato, abbiamo insistito, abbiamo chiesto a Dio delle grazie e poi siamo stufati perché la grazia non è venuta e abbiamo smesso. Non è vero. Dio vuole mettere alla prova la nostra pazienza e Dio vuole che noi lavoriamo anche in questo senso. C'è un bellissimo episodio che racconta Santa Teresa nel libro delle fondazioni, che quando Santa Teresa andò a Siviglia a fondare un monastero, voi sapete che Santa Teresa andava senza niente e lì si metteva a pregare e Dio gli dava il terreno, la casa, le monache, i quattrini e i benefattori che mantenevano il monastero. E lei affondava tutti i monasteri in Spagna. Arrivava a Siviglia, si metteva a pregare e pregare ma non arrivava niente, non arrivava niente. A un certo punto notti e giorni a pregare, novene, digiuni, non vi dico che cosa non combinò, ci racconta lei. A un certo punto gli apparve il Signore e gli disse, senti Teresa, ho capito, dammi tempo. Ecco, credo che anche noi dobbiamo insistere con la preghiera ma dar tempo al Signore, il quale sicuramente a suo tempo interverrà. Buona domenica.